Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Gianluca Vialli, oltre a essere stato un grande calciatore e un ottimo commentatore televisivo a Sky, era anche una persona di cuore. Teneva tanto agli amici, ne carpiva le esigenze, sapeva renderli felice con piccoli grandi gesti. In questo video vogliamo parlarvi dell'ultimo regalo che Vialli fece a Mancini. Un regalo speciale, nulla da scartare, non era un oggetto materiale, ma la presenza di un gruppo musicale che è da sempre nel cuore dell'attuale commissario tecnico della Nazionale, i New Trolls. Ecco quanto si legge sul quotidiano Repubblica, l'ultimo regalo di Gianluca Vialli a Roberto Mancini era stato per il compleanno. Roberto ha compiuto 58 anni, il 27 novembre. In quell'occasione Gianluca aveva subito pensato alla sorpresa. «Allora dobbiamo chiamare i New Trolls». Dopo le vicissitudini del gruppo tanto amato da Gianluca e Roberto Ragazzi e dopo la scomparsa nel luglio 2022 del leader del complesso, Vittorio Descalzi, il fratello Aldo non ha smesso di riproporne i successi con la sua compagnia, se capita. Era appunto capitato il 27 novembre. Mancini si era emozionato molto. Gianluca se n'era andato quasi di nascosto, con gli occhi umidi, mentre partivano le note della canzone prediletta per i suoi interminabili karaoke in via 20 settembre. Quella carezza della sera la intonava bene, poi sull'acuto c'era da discutere. Ma quella sera all'acuto, Dialli, non era arrivato, si era fermato alla carezza per Roberto, troppo stanco, già debilitato dalla malattia. Era l'ultimo saluto ai compagni della bella stagione. Lui lo sapeva già e la mattina dopo aveva mandato un messaggio in chat scrivendo «Scusate se sono andato via presto». È proprio con quest'ultimo dono al suo grande amico che Dialli se n'è andato.